Le esportazioni distrettuali toscane nei primi nove mesi del 2022 hanno superato il valore di 18 miliardi di euro. Questi risultati sono dovuti in parte all'aumento dei prezzi alla produzione che si è intensificato nel corso dello scorso anno, ma anche alla competitività delle specializzazioni distrettuali. A dirlo, il monitor dei distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intese San Paolo. Il comparto più rilevante rimane il sistema moda, che copre oltre il 70% dell'export, sostenuto dai brillanti risultati registrati dall'orificeria di Arezzo e dai distretti fiorentini del lusso come la pelletteria e la calzatura, l'abbigliamento di Empoli e il tessi e l'abbigliamento di Prato. In crescita, rispetto al pre-covida, anche il cartario di Lucca, sia nella componente produttiva sia nella meccanica, e il distretto del Marmo di Carrara, che ha dimostrato una buona dinamica soprattutto nella componente lavorata. Bene anche la filiera agroalimentare e i poli del settore farmaceutico e del biomedicale.